Ti voglio chiedere solo una cosa, una cosa che non ho mai capito. Va bene. Il primo giorno hai visitato il locale. Ah, mi ricordo. Ti abbiamo mostrato tutto. L'intero sistema, i segreti, siamo stati un libro aperto. Perché non l'hai semplicemente... Rubate, potevo... Rubare le vostre idee e avviare una mia attività usando la stessa roba e avrebbe fallito. Come lo sai? Sono l'unico a cui avete mostrato la cucina. Chissà quanta gente avete invitato lì dentro. E allora? E quanti hanno avuto successo? Molti hanno aperto un ristorante. Grande come McDonald's? Certo che no. Nessuno ci ha riuscito, nessuno ci riuscirà, perché a tutti manca quell'unica cosa che rende McDonald's speciale. Ovvero? Nemmeno tu sai cosa sia. Illuminami. Non è solo il sistema, Dick. È il nome. Quel glorioso nome, McDonald's. Diventa... Qualsiasi cosa tu voglia che diventi. È sconfinato, non ha limiti. E sa di... Sa di... Sa di America.